Beh, devo dire che questo personaggio è molto interessante perché è l'unica donna dei quattro fratelli, la più piccola e quella che in qualche modo è più destabilizzata rispetto a tutto quello che è successo durante l'infanzia. È una donna anche molto forte che in qualche modo tiene legati tutti i fratelli nonostante tutto. Beh, un'esperienza particolare, la prima esperienza lavorativa che condivido con mio marito. Ero abbastanza preoccupata e abbastanza ansiosa, non lo conoscevo sotto questo punto di vista, ma noi ci siamo trovati molto bene e per me è un'esperienza nuova e anche molto stimolante, anche perché non ho mai avuto la possibilità di interpretare ruoli un po' più neri, ruoli d'azione perché la caccia, il bosco, c'è molto movimento e pensavo di non essere portata, invece mi sta piacendo, quindi sono molto felice.